come state un saluto a tutti ben ritrovati buona giornata vi invito come sempre a lasciare un like a commentare scrivervi qui se amate anche voi il minan e se riconoscete questa maglia è ragazzi oggi ho voluto mettere un tocco di vintage con una maglia insomma che ha fatto parte della nostra storia con colori insoliti però a me piace molto e dietro c'è il nome di Dejan Savicevic uno dei miei giocatori preferiti ecco della storia della C Milan eccola qui volevo farvela vedere è particolare il blu credo che poi la prossima volta che andrò alle stadio quando ci potranno mettere le mezzamaniche mi metterò questa maglia a me il vintage la storia il passato celebra una foto con con UEA e Roberto Baggio proprio con con questa maglia dai riconoscete spero anche sono ogni tanto ovviamente critiche obiezioni che l'aspetto estetico di Milano e Rossi sta migliorando spesso nei video abbiamo anche le sigle introduttive in 3d ogni tanto animiamo con foto video spero possiate apprezzare questo contributo e iscrivete mi raccomando ci conto allora oggi è una giornata sicuramente importante avremo la conferenza stampa avremo l'allenamento di rifinitura capiremo chi potrà giocare domani in una gara in cui sappiamo non ce l'ha o che è squalificato scenderà in campo riposato poi mercoledì contro il totale ma la gara a questo punto più importante dell'anno in questo momento e crunic in questo video più tardi poi parleremo più nel dettaglio di quello che accadrà in questo video voglio spendere dei minuti su alcune situazioni che secondo me meritano di essere sottolineate in particolare su due giocatori che meritano in questo momento di essere celebrati due giocatori che spesso sono stati criticati a volte giustamente a volte in maniera un po gratuita e prevenuta su uno di questi due io ho capito a un certo punto che mi sbagliavo avevo fatto un video dicendo chiedo scusa per me è diventato un giocatore importantissimo sull'altro ogni tanto mi sentite un scettico perché credo che il minan possa migliorare nel ruolo però diamo a cesare qualche di cesare quando ci sono professionisti che vanno in campo testa giù si applicano al 100% vanno oltre magari le aspettative magari non sono da punto di vista tecnico di caratteristiche dei fenomeni ma scendono in campo si applicano e fanno anche la differenza in silenzio secondo me è giusto è giusto celebrarli avete capito di che parlo vediamo chi scrive subito nei commenti qui sotto di chi sto parlando due giocatori ho già speso parole per ibra per il suo atteggiamento più unico che raro a 41 anni di voler comunque continuare a a provare a giocare a dare suo contributo a soffrire anche fisicamente cosa che non è scontata ma in questo momento parliamo di due che forse possono essere definiti dei gregari ma sapete che i gregari sono fondamentali e secondo me bisogna anche alzare la sticella parto da uno dei due uno dei due signori è un giocatore che inizia avere tante presenze nel milan e inizia a essere importante poi mi rendo conto non ruba l'occhio non è mediatico può non fare impazzire può non vendere tante maglie però è un giocatore che ogni allenatore se lo ha se lo tiene stretto è un giocatore che dove lo metti gioca e gioca bene molto intelligente e io voglio esaltarlo in questo video perché lo merita avete capito forse quando ho detto dove lo metti gioca perché lui ha fatto nel milan il terzino il centrocampista il trequartista anche l'attaccante l'esterno gli manca da fare il portiere parliamo di radekrunic che signori è un giocatore molto importante per il milan che quando manca comunque lo vedi il fatto che milan sia tornato per formare le ultime partite è molto significativo secondo me non è una casualità che in queste partite c'era un giocatore come lui un giocatore davvero intelligente lui contro l'atlanto ha fatto anche una short ha fatto partita pazzesca 90 minuti 72 tocchi 91 per cento passaggi riusciti un passaggio chiave una palla lunga su una riuscita due dribbling tentati due riusciti uno tra l'altro tra tre giocatori 5 contrasti a terra vinti un fallo un salvataggio un intercetto due contrasti ha fatto davvero una prestazione di altissimo livello è stato uno dei migliori in campo gli ho dato 7 ma forse una prestazione anche da 7 e mezzo ma ne ha fatte anche tante altre poi magari appena rientra dall'infortunio fa un po fatica ma poi io difficilmente li vedo fare partite negative lui è un giocatore che ha un'estrema intelligenza tattica è bravissimo nelle letture è bravissimo nelle partite di posizionamento dove magari non lo vedi ma è fondamentale a dare ritmo recupera palloni far ripertire le azioni io dico che nel milano un giocatore del genere me lo tengo stretto e gli faccio anche i complimenti non è un non è una cosa da dimenticare che lo scorso anno nelle ultime tre partite quando la palla è bollente quando la posta in palio è altissima ragazzi verona atalanta e sassuolo lo scorso anno quando ci giochiamo e ci vinciamo lo scudetto il titolare era signora de kronic che giocava sulla tre quarti o l'atalanta recupera palla dalla pallalea a teo che poi va che va a segnare quindi direi che ovviamente poi pensiamo più ai vari leao tonali teo ed è giusto anche così però guardiamo anche chi sta dietro che magari fa il lavoro sporco che non viene apprezzato e io in questo video voglio dire grazie e apprezziamolo un po di più questo giocatore che inizialmente io ritenevo non da milan mi sono sbagliato clamorosamente ho chiesto scusa e ora in questo video voglio voglio celebrarlo e anche ringraziarlo perché poi su social spesso viene criticato come uno qualunque invece avere uno in rosa come lui è una è una qualità è un pregio è un onore è una fortuna quindi bravo rade che quest'anno comunque le sue partite le ha fatte come le ha fatte anche l'anno scorso bel giocatore importante la prima riserva va bene riserva ma essere riserva di milan è importante avere la panchina lunga e lui comunque ripeto quando fa il titolare lo fa anche bene poi non ha chissà quali giocate mi rendo conto però il secondo giocatore anche qui io sono sempre stato abbastanza tiepido nei suoi confronti ho sempre detto il milan in quella posizione deve fare un upgrade lo pensava anche il milan che a gennaio ha provato a fare un upgrade mi riferisco in questo caso a junior messias il concetto di favola io l'ho abbandonato subito anche lui non piaceva il fatto che arrivasse dal crotone ragazzi vi do subito un dato da quando è arrivato al milan cioè agosto 2021 lui è terzo nella classifica marcatori primo giro 25 secondo leo 23 terzo messias 11 il che è positivo per lui notiamo un po di divario perché dai 23 agli 11 di messias servirebbe qualcuno lì di mezzo è una virtù sua è anche un po limite del milan perché dovrebbe posizionare più giocatori però lui 11 gol d'agosto 2021 li ha fatti per me infatti è più una seconda punta che un esterno e ora zitto zitto si sta applicando con ottimi risultati in un ruolo non suo ruolo non doveva essere la mezzala come nel derby ma facendo il quarto a centro campo o quinto dipende un po dalle posizioni lui si sta applicando dietro aiuta da una mano ogni tanto lo vediamo fare qualche diagonale interessante non è un giocatore che pensa soltanto offendere sta provando a dare equilibrio anche se le sue corde più nelle corde di sanemakers e poi i gol li fa quest'anno piaccio oppure no 17 partite quattro gole due assist un gol di 260 minuti significa un gol ogni neanche tre partite non è male quindi è uno che la porta comunque la vede sempre arriva in questa nuova posizione da due gol in due partite non è ziec non è che ne so asensio però il suo lo sta facendo ragazzi si sta applicando è andato a fare un ruolo non suo e comunque nelle ultime partite ha dato contributi in termini di prestazione oltre che in termini di fatturato realizzativo due reti una col monza che vale i tre punti e una che ci ha chiuso la partita contro l'atalanta quindi non voglio influenzare non voglio farvi cambiare idea però mi sembra giusto sottolineare che ci sono dei giocatori che non finiscono in copertina ma che ogni tanto dovremmo mettere in copertina e quindi in questo video lo faccio davvero con il cuore mi sembra il caso non di fare beneficenza ma di dare a cesare qualche di cesare quindi non sto regalando niente a nessuno sto dicendo che nel minaccio sono giocatori che che meritano un plauso un po più spesso rispetto magari alle critiche che ogni tanto sono eccessive e che arrivano anche da un po di prevenzione non sto dicendo che crunice messia sono il centrocampista ideale e l'esterno ideale per il milano non lo dico non lo dirò mai però dico che nel milano ci stanno crunice è un giocatore che nel milano io non farei partire mai così la pensa pioli alla dirigenza e messia se un giocatore che comunque il suo contributo lo dà si può migliorare nel ruolo si potrebbe restare come alternativa al prossimo anno magari si in ogni caso ragazzi a questi due giocatori secondo me non si può dire nulla si può prendersela col giocatore più forte magari non ti sta dando quel quello che ti aspetti ma da giocatori così che sono comunque sempre al massimo significa che si impegna delle loro potenzialità significa che che si impegnano sempre al top e quindi bravi ce ne sono altri ma in questo momento io voglio esaltare soprattutto loro due junior messia sera de crunice bravi 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 voi che cosa ne pensate scrivetelo qui sotto nei commenti mi sono dimenticato qualcuno c'è qualcun altro che magari andrebbe un po più diciamo così sottolineato a livello di importanza io dico sempre che servono 11 titolari ma non si ragiona più sull'11 sono 15 sono 16 e serve avere anche delle alternative poi nel mio milano ideale ripeto crunice messias non sono titolari l'anno prossimo bisogna migliorare ma crunici sicuramente me lo tengo e messias comunque il suo lo sta facendo i numeri lo dicono soprattutto un'applicazione non da tutti in un ruolo molto diverso da quello che era abituato iscrivetevi qui ragazzi se siete cuore rossoneri se amate questa maglia lasciate un bel like commentate numerosi con il vostro punto di vista grazie per l'attenzione spero possiate apprezzare la nostra passione con un servizio che sta anche migliorando a livello estetico perché anche l'occhio vuole la sua parte iscrivetevi qui un abbraccio